Salve amici, oggi annunceremo alcuni treni dalla stazione di, Reggio Emilia a alta velocità Mediopadana. Annuncio ritardo, il treno Italo alta velocità, 99-48, di nuovo trasporto viaggiatori, proveniente da Napoli Centrale, e diretto a Milano Centrale, delle ore 19 e 30, arriverà con un ritardo previsto di 5 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Annuncio ritardo, il treno alta velocità Fraccia Rossa, 98-08, di Trenitalia, proveniente da Lecce, e diretto a Torino Porta Nuova, delle ore 19 e 42, arriverà con un ritardo previsto di 55 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Il treno Italo alta velocità, 99-59, di nuovo trasporto viaggiatori, proveniente da Torino Porta Nuova, e diretto a Napoli Centrale, delle ore 19 e 28, e in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Roma Termini. L'ambiente Smart è in coda al treno. Il treno Italo alta velocità, 99-48, di nuovo trasporto viaggiatori, proveniente da Napoli Centrale, e diretto a Milano Centrale, delle ore 19 e 30, e in arrivo in ritardo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Milano Rogoredo. Annuncio ritardo, il treno Italo alta velocità, 99-52, di nuovo trasporto viaggiatori, proveniente da Bari Centrale, e diretto a Torino Porta Nuova, delle ore 20 e 30, arriverà con un ritardo previsto di 65 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Annuncio ritardo, il treno alta velocità Fraccia Rossa, 95-60, di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale, delle ore 22, arriverà con un ritardo previsto di 45 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Il treno alta velocità Fraccia Rossa, 93-29, di Trenitalia, proveniente da Torino Porta Nuova, e diretto a Perugia, delle ore 19 e 42, e in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Arezzo, Terontola.